Claudio Ottoni, il Salò ha pareggiato 1-1 contro l'Olbia, un risultato amaro? Sì, amaro perché è proprio al 97esimo, anzi a 96-45 secondi, ha fatto un gran gol su un errore nostro, un rinvio svirgolato, però c'è dell'amaro in bocca perché siamo stati un po' sfortunati durante l'incontro, abbiamo preso due traverse, un'occasione con Rossetti e niente, potevamo chiudere la prima e nel calcio finché l'albero non fischia la fine, è sempre da giocarcela, abbiamo pagato caramente i nostri errori. Il Salò ha avuto la possibilità di segnare in contropiede qualche attimo prima con Scioli e da lì poi è venuto il gol del pareggio. Sì, è tirato in porta, non ha preso lo specchio da porta, è un peccato perché il portiere era in confusione dopo lo scontro con Rossetti, quindi è un peccato per noi, è andata male, ci ha costato due punti. Se lei potesse riscrivere, rigiocare la partita, cambierebbe qualcosa? No, purtroppo sono stati condizionati da certi infortuni, ho dovuto fare delle sostituzioni forzate, può darsi che se non fosse andata così sarebbe stato diverso, però andata così è punto e basta. Come stanno gli infortunati? Non lo so, adesso Paolo ha preso un scontro con il portiere, si è allungato il ginocchio, è andato in un'imperestensione, Ciccio ha preso una ginocchia sul vasto mediale, adesso valuteremo i problemi. Speriamo che non sia niente di grave perché adesso fra sei giorni si giocherà di nuovo a Trento contro mezzo Corona. Al di là del pareggio amaro, la Feralpi ha conquistato il tredicesimo risultato utile consecutivo, cosa che non capitava da quattro anni. Sì, penso sia un traguardo importante, è una categoria diversa da quella che è stata conquistata precedentemente. C'è da essere orgogliosi di questa squadra e basta. Lei adesso, guardando al futuro, è un po' meno ottimista rispetto al passato visto gli infortuni, visto forse un certo calo di freschezza? No, io sono sempre ottimista. Sì, mi auguro per i ragazzi e per tutta la squadra che gli infortuni non siano niente di grave, almeno possono essere recuperabili nel breve tempo. Siamo lì, sì, potevamo avere due punti in più, però ce la giocheremo fino alla fine, mancano sei partite, sono sei spareggi e vedremo. Quindi la sollecitazione è a non mollare? Quella non abbiamo mollato mai, anche nei momenti più difficili, adesso siamo, come ha detto lei prima, sono tredici risultati consecutivi, perciò un buon bottino perché dovremmo mollare. Anzi, siamo lì e ce la giocheremo fino in fondo, non molleremo sicuro. A cominciare da Trento, sabato contro il Mezzocorona. Sì, è una squadra che qui all'andata mi ha fatto un'ottima impressione per come era messa in gioco, in campo, giocava dei fraseggi molto veloci. Dopo hanno avuto un calo, però c'era da giocarcela come tutte le altre, non è che il Mezzocorona sia diversa da quella di oggi e controllo spesa l'ultima giornata. Sono tre punti come tutte le altre partite.